Una ragazzizzazione, una scelta che forse rende il meglio possibile, Francesco, il messaggio che anche il padre Gabriele vi ha appena studiato, la storia che il padre Gabriele vi ha raccontato della parabola del buon samaritano. Cercheremo di renderla il più comprensibile possibile attraverso questa scelta. Fate molta attenzione perché i vostri ministri si sono impegnati tantissimo, hanno studiato il copione per settimane e settimane. Andoci dal catechismo. Allora, basta, lasciamo la parola direttamente al Vangelo.